Bella a tutti ragazzi in questo nuovo video con il vostro XBreeze, sto morendo ragazzi, sono stato 3 ore e mezza in live da mezzanotte, ora sono le 3.20 Non riesco a manco più a parlare, basta, sto col pigiama, tutto scuro, non riesco a manco più a accendere le luci E spero che si veda qualcosa, anche perchè devo commentare adesso la partita appena conclusa quella di Berrettini che ha battuto team E Fognini che ha perso contro Novak, ATP Cup che si apre quindi per l'Italia con una vittoria e una sconfitta contro l'Austria C'è ancora comunque la terza partita che è il doppio, che ragazzi non potrò seguire perchè sto veramente morendo di sonno E quindi carrerò questo video velocemente, lo carico e poi domani andiamo a vedere i risultati Però ricordate che domani sempre a mezzanotte c'è Fognini per, quindi c'è Italia-Francia E saremo sempre in live, ok? Iniziamo subito Allora, Fognini è stata una partita bruttissima, ok? Mi va a perdere contro un Novak che era sfavoritissimo, ma si sono viste le lacune di Fabio Adesso io non so se aveva qualche problema alla spalla destra perchè stava sempre lì che se la muoveva Se la faceva un po' di stretching, però veramente ha fatto, come minimo avrà fatto 40 errori non forzati E non esagero, come minimo E in poche parole, alla fine Novak, no? Ok? Ovviamente con la qualità non è lo stesso livello di Fabio Però vedendo un Fognini, che comunque aveva anche breccato il primo game proprio del primo set Subito così boom, break, poi si è fatto ribreccato ovviamente Perchè non riesce a mettere un break Fognini Però comunque, vedendo le due caratteristiche E Novak vedendo comunque che Fabio stava facendo fatica Perchè voleva trovare dei colpi, quelli da fenomeno Che due o tre volte gli sono anche usciti Ma il problema è che su 40 colpi da fenomeno gliene uscivano 3 E poi dopo, conoscendo Fognini, se non gli esce un colpo Lo prova, lo prova, finchè dopo non si incazza E Novak poi comunque ha spiccato Novak, non è Novak Djokovic Però ha fatto una bella figura E Fabio ha fatto una bruttissima figura E vabbè, magari domani contro Benoit Per si rifarà Ma siamo qui a parlare soprattutto di Matteo Berrettini Che è andato a battere Dominic Thiem per 2-0 Ah, intanto anche Fognini ha perso 2-0, vabbè Però, intanto, Berrettini ha vinto 2-0 Primo set vinto 6-2 E secondo set rischiatissimo, perché rischiatissimo, 6-4 Dopo è andato in vantaggio 4-0 nel secondo set Si stava facendo recuperare E in live stavamo tipo col cuore a mille Perché veramente L'ultimo game Andato poi ai vantaggi È stato un vero parto E devo dire che Thiem I primi due game a servizio del primo set Ha lasciato letteralmente Berrettini a 0 Sembrava veramente che Thiem fosse un fenomeno Al servizio oggi Berrettini un po' meno E invece alla fine poi si è rivelato tutt'altro Cioè Berrettini ha trovato veramente fuori dei colpi da fenomeno Dritti, rovesci, smorsate E cioè Io alzo le mani Veramente un fenomeno Ci ha salvato oggi Perché se perdeva anche Berrettini L'Italia non so che finale avrebbe fatto Perché vabbè Poi c'è anche il doppio, sì Domani con la Francia ok Però ricordiamo che siamo in un giro in a 3 Con Italia, Austria e Francia E solo una passa Va poi alle semifinali Quindi Sono fatte le 3.20 di notte E dal vostro XB è tutto Lasciate le commentate Iscrivetevi ricordo Ancora Domani sera a mezzanotte Sono in live Fognini Per E poi Berrettini Monfils E poi Vabbassori Bolelli Contro Mahut E Roger Vaseline Ok Vi sembra di avere tutto quanto Vi auguro una buona notte E se vedete questo video domani Vi auguro un buongiorno Bella a tutti Vi auguro un buongiorno Vi auguro un buongiorno Vi auguro un buongiorno Vi auguro un buongiorno